Stasera mi hanno chiesto le piadine per cena, chiaramente tutti gli ingredienti non li ho, vediamo cosa posso inventarli. Per il ripieno, olio extravergine, scivola tritata e qualche evo di marino. Petto di cuore leggermente infarinato e direttamente dentro, così. Lo lasciamo rosolare bene. Salto. Un po' di pene. Un'annaffiata di vino rosso. Un po' di pene. Ma si, ancora ancora. Ecco qui. Un po' di pene. Allora, ora stendiamo le nostre piadine. Quindi, prendiamo un pezzo di impasto, così. Facciamo una pallina. Infariniamo leggermente e stendiamo con l'aiuto di un martarello, così. Ecco qui. E ora la portina di padella. Bella calda, antiaderente. Buong糞iata. E ora consumiamo un maestro di vino. Ruettare un tagliataCon. Buong低wirtschaft. No, ewan pose. Specificazioni. Buongiata. As ông. Di tempo. Partiamo subito, zucchine, poi il petto di pollo bello cremoso. Poi ci metto un bel po' di insalata o qualche chicco di mais, ecco qui e la rotola. Non è una piatina, ma vi assicuro che non è niente male. Alla prossima, fatemi sapere, commentatevi, mi raccomando, commentatevi!